La piattaforma informatica Regional Explorer, già utilizzata dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, permetterà alle prefetture dei due capoluoghi di incrociare dati e informazioni sulle imprese ed evitare così infiltrazioni mafiose. Un protocollo d'intesa è stato firmato dai prefetti di Palermo ed Enna, Giuseppe Forlani e Madille Pirrera e dal presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese. Il sistema Rex è un sistema evolutissimo di tracciamento dei dati, di dinamiche anche di controllo. serve soprattutto per incrociare i dati delle aziende con i dati patrimoniali e mettere a disposizione delle prefetture e delle forze dell'ordine per poter fare delle indagini compiute. Permette anche di fare statistiche di natura generale. Io penso che metterci a sistema oggi tra mondo delle imprese e delle Camere di Commercio, forze dell'ordine e prefettura è il miglior modo per combattere la mafia. Si potranno così prevenire manipolazioni societarie e l'utilizzo illegale dei fondi che arriveranno alle aziende anche per contrastare gli effetti economici della pandemia. Mettere insieme le ragioni dell'economia con le ragioni della sicurezza. Cioè queste risorse devono restare nell'ambito dell'economia legale e quindi tutto il nostro dispositivo è orientato, deve essere orientato a potenziare il sistema di prevenzione amministrativa. In questo caso dare forza alle attività di polizia giudiziaria per il contrasto poi concreto di questi tentativi. Grazie. Grazie.